E ciao a tutti, come potete vedere oggi voglio parlarvi di Pitcrawler, che chiamerò 5.000 volte Pitcrawler, scusatemi ma intanto si chiama Pitcrawler e diamoci un'occhiata, ciao a tutti ed eccoci qua ed ecco Pitcrawler, eccolo qua, questo piccolo mattone nero. Un'opera molto interessante in realtà, con un sistema di regole completamente suo, autonomo, ispirato profondamente ai libri game, tanto che si gioca un master e un giocatore, pieno di idee all'interno, pieno di modi di fare, pieno di spiegazioni su come approcciare un gioco, c'è tantissima roba da dire ma... adesso... sigla! Ludo pignone Ma che strada genio? Sono divertenti, questa cosa mi diverte tantissimo, scusate, ragazzi ancora, bene, a noi, Pitcrawler, ok, Pitcrawler è della McGuffin & Company, è scritto da, andiamo a prendere gli appunti perché di roba c'hanno da dire tante, se non prendo gli appunti questa volta non ci riuscirò, Gli autori sono Sim & Sienna, e come vi dicevo il gioco si ispira profondamente all'esperienza e allo stile di gioco della lettura dei libri game, tanto che infatti il manuale inizia, a parte al giusto colofon, con un libro game. Parte letteralmente al punto 1, primo paragrafo, e comincia subito in un minuscolo libro game di 12 paragrafi a farti vivere una rapida esperienza contro un mago, e adesso parleremo perché contro un mago, per far capire di fatto da cosa si ispira. Il gioco è un venturing, fondamentalmente un crawler, un gioco di avventura, scusate per troppi inglesismi eccessivi, un gioco di avventura in cui abbiamo un giocatore ed un semplice master. Il giocatore è un avventuriero che parte al livello 1, creato casualmente, e parte la sua avventura in questi mondi, in queste lande controllate da vari maghi e profondamente caratterizzate, e piano piano cerca di raggiungere il completamento della sua storia, che generalmente è il raggiungimento del decimo livello, che potrebbe anche essere uno scontro contro un mago, piuttosto difficile. Nel mentre, il gioco si gioca tranquillamente uno a uno, e riprende molti degli stilemi dei classici libri game. Sistema di regole, partiamo da quello, vai. Allora, regole. Allora, il sistema di regole è molto particolare, ho tantissima roba da dire. In realtà è molto, molto, molto semplice. Serve un classico set di DAI, il D20 lo useremo solo per randomizzare alcune tabelle, e si gioca normalmente dal D4 al D12. Abbiamo cinque caratteristiche, che sono, ve le dico in inglese, poi ve le dirò in italiano, che sono fit, finger, fist, face e heart. E l'idea, secondo me, è geniale, partiamo da questo, che sono piedi, mani, piedi, pugni, dita, faccia e cuore. E di fatto ti spiegano quando usarli, in base al nome stesso della caratteristica. Un conto è, se tiro piedi è perché ho bisogno di fare qualcosa di rapidità, di agilità, addirittura, secondo me, anche alcuni scambi di pugni di box. Può essere fatto con piedi, specialmente quando riguarda la difesa. Fiste e pugni, letteralmente colpire, rompere, spaccare. Alla stessa maniera, fingers è tutto quello che riguarda le dita, quindi rapidi, apertura dei lucchetti, riuscire a, magari, che ne so, faccio un eterno banale, anche a decifrare qualcosa, risolvere degli enigmi. Face è tutto quello che riguarda, letteralmente, la parte di relazione carismatica. E poi abbiamo heart, che è, letteralmente, il cuore e riguarda la volontà e la voglia di fare. Uno dei presupposti, e qui ne avremo tante di cose strane, uno dei presupposti del manuale, che non ci sia una statistica di intelligenza o di saggezza, perché, come in Every Game, la sfida è tra il designer, in questo caso il master, e il giocatore, il giocatore e quindi il suo personaggio. Il personaggio, se di fronte a un enigma, e qui consiglia di usare molti enigmi, l'enigma lo deve risolvere il giocatore, perché fa parte integrante della sfida e del divertimento del gioco. Quindi non ci può essere un tiro che semplifica la parte di intelligenza, l'approccio della saggezza. Da sapere le cose, prendere appunti, provare, sbagliare, ricominciare, ci salveranno i pollici, lo scopriremo tra poco cosa sono i pollici, ma sono fighissimi, ed è una cosa che usiamo tantissimo quando leggiamo un libro game, qualcuno l'ha già capito, ma torniamo a noi. Quindi le caratteristiche sono queste. Con un sistema di randomizzazione molto semplice, ovvero, tiri un D10, smezzi, e quella è la caratteristica che, sai, tira D10, dividi a metà, faccio 4, la quarta caratteristica ha il D10. Mi rimangano 4 caratteristiche, tiro un D8, smezzo, quella caratteristica che esce fuori è quella con il D8, uguale per il D6, uguale per il D4, l'unica che rimane fuori, sa chi ce l'ha, avrà il D12. Quindi ogni caratteristica ha un dado. Ci siamo fin qua? Estremamente semplice. Quando si affronta una prova, si vede qual è la caratteristica adeguata e si tira. Quanto devo fare? La difficoltà della prova. Le prove partono da una difficoltà di 6, che è estremamente semplice in realtà, per la meccanica del gioco, quindi un risultato semplicissimo è il 6, poi vi dirò perché, e poi, come vi dicevo, ogni qualvolta la difficoltà è 6, poi le difficoltà si spostano di più 3 o meno 3, quindi abbiamo la difficoltà 3, che è 3, poi abbiamo 9, 12, 15, 18, impossibile. Perché è facile la difficoltà 6? Perché la meccanica di base è estremamente chiara e semplice. Tu hai una difficoltà e hai una caratteristica da attirare, dopodiché fai 3 controlli molto banali. Hai l'oggetto giusto? Sì, abbassi di una difficoltà. Hai un'expertise adeguata? Sì, abbassi di una difficoltà. Hai un companion, qualcuno che ti può aiutare? Sì, abbassi di una difficoltà. Abbassare di una difficoltà non vuol dire portarla da 9 a 8, ma farei uno scalino da 3. Quindi faccio un esempio banale. Se dovessi superare un baratro, anzi scala una montagna, scala una parete, e ho con me 7 da roccia, sono la mia scalatore perché magari vivo in montagna e ho un companion che mi può aiutare a fare roccia, a questo punto la difficoltà da 9, scala di 1 va a 6, scala di 1 va a 3, va a 0, non c'è bisogno di tirare. Ho fatto la zona. Perché ho l'oggetto, l'expertise e un companion. Quindi una parete estremamente difficile per una persona, hai una difficoltà 15, esagerata, con una persona adatta e con gli strumenti adatti, la spassa di 3 avventa 12, 9, 6. Altrimenti un 15 è praticamente impossibile. Perché praticamente impossibile? Perché in realtà i dadi esplodono. La meccanica del dado esplosa, l'obbisitenza la conosciate, quella è vero in quanto tiri un dado, se fai il massimo del dado ritiri e sommi i valori. Se rifai di nuovo il massimo puoi continuare a farlo. Scusate. Questo aiuta a fare i critici. I critici nel gioco sono molto semplici. Quando fai più del doppio del richiesto, ma almeno una difficoltà 6, quindi vuol dire che fai da 12 in su fondamentalmente con il dado, beh, hai fatto un critico. Il critico può dare risultati eccezionali oppure variare il danno che fai da 1 a 1 di 4. Cosa vuol dire il danno? Beh, in questa meccanica, con questo check di dado secco, tutte le meccaniche del gioco stanno qui dentro. Il master non rola per i mostri. Quando c'è un affrontare un avversario, è da considerarsi una prova. Semplicemente l'oggetto giusto sarà aversi un'arma, l'expertise e la competenza nell'arma, e un companion è un companion che magari gli dà di un mazzato mentre gli dai anche te. Questa è l'idea di fondo. Come si risolve un combattimento? È estremamente semplice. Se ci riesco faccio un danno, indipendentemente dall'arma non ha alcuna importanza in questo gioco. Il successo è uguale a un HP tolto all'avversario. Il fallimento è subire un HP. Un successo critico è, di fatto, fare 1 di 4 danni all'avversario. E queste sono tutte le regole del gioco. Ci sono anche delle regole per fare le parti di combattimento avanzato, ma sono molto semplici, e non fanno altro che dire, puoi fare un'azione pericolosa e aumentare la tua difficoltà di uno scalino, ma se hai successo fai due danni. I fallimenti, il companion prende il danno come te, le due regole in più, e il companion in battaglia, se sono le regole avanzate, può fare altre due azioni. Normalmente assistiti nelle prove, come ho detto finora, oppure prendere un avversario e far sì che lui non combatta con te, in modo che non ci sia un combattimento multiplo, e la terza cosa è andarsene, cioè devo stare riterata, in modo da non rischiare di prendere danni. Il combattimento multiplo è semplicissimo, ogni qualvolta raddoppia il numero degli avversari, aumenta di nuovo la difficoltà. Zombie, difficoltà 6, facilissimi. Due zombie, difficoltà 9. Quattro zombie, raddoppiati ovviamente. Difficoltà 12, ok? Un'orda di zombie, difficoltà 15, e si va avanti in questa maniera. La meccanica quindi, come vi ho detto, è estremamente semplice, e queste sono tutte le regole per il combattimento. Come crea il personaggio? Immaginatevi un po', facilissimo. Randomizzi le statistiche, come si è detto adesso, randomizzi un background, il background ti dà una lista di expertise da poter scegliere, ne devi scegliere due, se qualcosa all'asterisco è obbligatoria, se sei stato un allevatore di animali non puoi non sapere allevare un animale fondamentalmente, ti dà due oggetti, in più randomizzi altri due oggetti, randomizzi un expertise, scegli un companion, l'unica scelta che fai realmente è scegliere il companion, e puoi scegliere l'expertise nel tuo background. Alla fine hai tutto quello che puoi avere, perché il personaggio può trasportare 5 oggetti, e hai 5 oggetti, 2 dal background, 2 randomici, e la quinta è l'arma che scegliete di avere. Hai le expertise, che sono 3, 2 dal background e una randomica, e un companion, puoi avere solo un companion. Livello 1, 7 HP, quelli ti devono bastare, se sbagli le prove generalmente perdono HP in quasi tutte le azioni del gioco, e vai all'avventura. Il passaggio di livello è quando chiudi una storia, non è un sistema di verde XP, assomiglia molto alla lettura di un libro game, che arrivi in fondo al libro game, hai fatto l'avventura, al successivo libro game puoi fare un piccolo passo di avanzamento. C'è una tabella per gli avanzamenti fino al decimo livello, che ti permettono di prendere altri XP, altri HP, altre expertise, aggiungere il numero di companion, quindi andare in viaggio più di uno e non essere semplicemente da solo, o con una persona soltanto, e in questa maniera passo dopo passo puoi arrivare al decimo livello. Dovrei vedere tu praticamente tutto, sì, tranne naturalmente i pollici, i pollici, i pollici sono la cosa più bella del mondo. I pollici sono i pollici di quando si leggeva i libri game, e riprendono esattamente la stessa meccanica. Quando si leggeva i libri game, se arrivava un paragrafo, avevamo un dubbio, ci si lasciava un dito e si andava a vedere quando andava a finire la storia, si proseguiva magari un pochettino, e se ci piaceva si continuava, togliendo il pollice dal libro. L'idea è esattamente la stessa, in qualsiasi momento il giocatore può dichiarare che mette un pollice. Di base ne consiglia di considerare tre thumbs, tre pollici a un'avventura, ma si possono fare anche meno se ne può mettere di più. Lui ne consiglia due o tre. Quando metti un pollice lo consumi, e di fatto cosa fai? Fa una specie di save point. Per dieci minuti, da quel momento, puoi dichiarare di tornare al pollice, e tornare indietro, esattamente come eri prima, conscio di quello che saprebbe successo, e ti giochi una storia diversa. Se praticamente arrivo, apro una porta sulla destra, e mi trovo in mezzo a una stanza ricolma di scheletri, pronti a saltarmi, in pieno buio dove non c'è luce, forse è il caso di usare un pollice, tornare un po' indietro, e andare a cercare un modo diverso, ad affrontare questo scontro, o evitarlo lo scontro in qualche maniera. I pollici servono esattamente a questo, sono torniamo un attimo indietro, per favore, dieci minuti in prima, e si riparte. Questa è l'idea del pollice. Geniale, questo può fare solo in uno versus uno, tra virgolette, giocatore master, ma l'idea di fondo è una bomba, secondo me. Allora, vi ho detto tutte quante le regole di base, vi ho detto anche dell'upper hand, c'è anche l'upper hand in combattimento, fondamentalmente chi è in vantaggio particolare, può avere un più uno al danno, può avere un aumento o una diminuzione di difficoltà, sono piccole regole aggiuntive, ma se pensate, le meccaniche di base modificabili, sono solo aumentare o diminuire le difficoltà, e fare più o meno di un danno, perché di base è sempre un danno. Considerate che un drago ha 4 HP, se consideri il massimo, così come un mago, il più grande avversario possibile, e molto spesso un mostro avrà 1 HP 2, quando è gigantesco. C'è tutto un sistema molto carino di tag, quando vai a creare i tuoi mostri, e c'è una lunga lista di mostri nel manuale, molto particolare anche, in cui ti fa capire come pensare la creazione di un mostro. Infatti, e andiamo su una cosa importantissima, il gioco in realtà ha una miriade, ma miriade di idee all'interno, partendo da un presupposto fondamentale. Parte da pagina 80, il manuale fa una dichiarazione politica attiva, sul perché Pitcrawler esiste. È un gioco progressista, vuole essere, da tutte le forme. Esattamente sì, la dichiarazione precisa di pagina 80, la proverò a dire, ma non penso sia una traduzione lineare, con il pensiero italiano. È un mondo, il mondo di Pitcrawler è diviso, è stato creato questa parte del manuale, dichiarando che il mondo di Pitcrawler è qualcosa, e una seconda parte della pagina, del paragrafo, per indicarne la giusta sfumatura. Quindi, i maghi guidano tutto quanto, e tu non sarai mai uno di loro. Ci sono pericoli ovunque, ma ci sono sempre grandi, grandi ricompense. E la partenza, il primo, è più che altro, un green fantasy, ma con un pensiero, di sinistra progressista. Questo è il sotto, e di fatto c'è una dichiarazione politica. Il gioco parte dal presupposto dell'inclusività di tutto il resto, che si può vedere un pensiero progressista, e parte dal presupposto che il nemico sono i maghi, che sono la rappresentazione degli ultraricchi. Punto. Questa è la di fondo. I maghi, che controllano completamente il territorio, e hanno il totale controllo, e decidono quello che vogliono con la magia, perché la magia non la raggiungerai mai, ed è di fatto la possibilità di modificare il mondo che li circonda, sono la rappresentazione degli ultraricchi, del mondo moderno, e loro sono i tuoi nemici. Punto. E questa è la partenza del manuale. Pagina 80, non vedo tutto, tutte le regole, però da qui parte in poi il resto. E infatti il manuale ha tutto un approccio diverso, su tutto, non solo sulla parte politica, che comunque qui ha la forza di rappresentarla e di spiegarla fin dall'inizio. Rispiega da zero cosa sono i concetti del gioco di ruolo, rispiega da zero come ci si gioca di ruolo, c'è tutto, anche perché è molto particolare, essendo un uno a uno, come il rapporto, c'è un modo diverso di spiegare ogni cosa, di come si fa a comporre uno scontro, come si fa a creare uno scenario, come crea un nemico da poter affrontare, tutto è stato ridescritto e rispiegato, ricreando una, di fatto, un manuale zero a suo modo, e crea quest'opera, in realtà molto pesante, molto grande, pieno di roba da leggere, c'è tantissima roba, sono 260 pagine, 64 pagine, in bianco e nero, bianco, nero e rosso, perdonatemi, bianco, nero e rosso, di testo, di fatto è un vero e proprio manuale, interessante sì, pieno di roba interessanti, lungo da leggere, non così tanto, si legge molto bene, è pieno di tabelle in alcuni aspetti, descrizioni di oggetti, descrizioni di poteri, anche solo a livello narrativo, perché le regole, come vi dicevo prima, sono estremamente semplici, quindi c'è poco crunch, che si può modificare con le regole, quindi, tante tabelle, roba che si può tranquillamente saltare, per leggerla la prima volta, se non interessa il risultato randomizzato, si legge il manuale in poco, è sicuramente qualcosa di interessante, di innovativo, fine, tutto, posto, bitcroller, cato te, grazie a tutti,